Si basa sulle condizioni psicofisiche di Antonio De Marco, lo studente di infermieristica condannato all'ergastolo per avere massacrato due anni fa a coltellate l'arbitro leccese Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleonora Manta, la richiesta di processo d'appello presentata dai difensori del giovane. I legali, già durante il processo di primo grado celebrato dinanzi alla Corte d'Assise di Lecce, avevano presentato una perizia in cui si sosteneva che il giovane era affetto da una patologia composita grave, con una dimensione autistica e psicotica e quindi non era in grado di intendere e di volere. La Corte invece, nella sentenza di condanna del 7 giugno scorso, aveva giudicato De Marco perfettamente lucido e orientato, in grado di percepire correttamente la realtà e in grado di uccidere con estrema lucidità. Secondo la perizia disposta dalla Corte d'Assise, infatti, De Marco sarebbe affetto da un disturbo della personalità di tipo narcisistico, ma non tale da inficiare la sua capacità di intendere e di volere. Il duplice delitto era stato organizzato da tempo. In alcune pagine di un suo diario, un mese prima della strage, De Marco aveva infatti parlato della sua volontà di uccidere qualcuno, facendo in particolare riferimento a Daniele De Santis. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, la sera del 21 settembre del 2020, quando De Marco arrivò a casa delle due vittime, Eleonora stava mangiando un dolce e Daniele le stava scattando una foto. Daniele fu colpito con 38 coltellate e Eleonora con 41. Un'ora dopo, il killer andò da una prostituta. Per i suoi difensori, De Marco non sarebbe stato neppure imputabile, poiché affetto da un vizio di mente.